L'onorevole della Lega Rossano Sasso si è presentato a Trani dopo la vicenda dell'esclusione dei bimbi a causa degli obblighi vaccinali non rispettati da alcuni genitori nel plesso San Paolo. Ad inizio mattinata l'intera classe era all'esterno della scuola per solidarietà agli esclusi e sono stati fotografati con dei cartelli, o tutti o nessuno. L'onorevole Sasso si è presentato a scuola alle 8 ed è anche entrato con il tesserino da parlamentare come passepartout in compagnia di un commissario di polizia. Ha contattato la dirigente Gasbarro telefonicamente con la quale ha parlato prima di rilasciare un'intervista. L'onorevole ha poi chiesto il nome ai bimbi che ha accompagnato in classe ed infine ha chiesto di essere invitato a fine anno per il gelato di classe. Un problema che è stato risolto con il buonsenso, né rispetto della legge né rispetto della sensibilità di tutti. Questa scuola ritorna ad essere una comunità scolastica tranquilla, di sicuro però questo decreto Lorenzin va rivisto, soprattutto quando prevede come sanzione l'esclusione dei bimbi dai 3 ai 5 anni. Qua nessuna famiglia non vuole vaccinare i bambini, ci sono stati soltanto dei problemi burocratici che per fortuna questa mattina sono stati risolti. Il consiglio è quello comunque di vaccinare i bambini, io personalmente ho vaccinato i miei bambini, però un conto è vaccinare nei tempi e nei modi che andranno sicuramente rivisti. Non sono un medico, però mi piace pensare che forse hanno un po' esagerato con il decreto Lorenzin, però l'obbligo, le imposizioni staliniste e creare un danno psicologico a dei bambini che a 5 anni piangono perché non possono tornare dai propri amichetti, dalle proprie maestre, no. Questo lo cancelleremo, ho già presentato una proposta di legge in tal senso, ho avuto un'ottima collaborazione da parte della dirigente scolastica, basta presentare un foglio. Era in realtà un intoppo burocratico che purtroppo nella giungla incomprensibile di un legislatore che è stato raffazzonato, lo ribadisco, il decreto Lorenzin va cancellato, si è creato a qualche incomprensione e sono contento di aver contribuito a far schiarire il cielo questa mattina. Certo, finalmente lo possiamo dire, visto stamattina l'intervento anche dell'onorevole Sasso che ci ha aiutato a chiarire un po' la vicenda e che io ringrazio pubblicamente perché si è presentato per seguire questa cosa e grazie a lui finalmente i bambini saranno riammessi a scuola. Ci sembrerebbe che ci sia stato solo un problema di documentazione che sembrava carente mentre invece era tutto presentato regolarmente e quindi stamattina la dirigente tramite una mail annullerà il dispositivo di interruzione dell'anno scolastico e i bambini finalmente potranno rientrare in classe. Quindi diciamo che la vicenda è risolta con ovviamente tutto quello che ne conseguirà con la prosecuzione dell'iter vaccinale e l'iter informativo che noi genitori chiediamo da tempo.